Amanda, come ti senti oggi? Puoi dire come è vero in Italia? Cosa proviamo a tornare a Firenze oggi? È una memoria difficile per te di essere in Italia? Scusate, scusate, scusate signori. Grazie. Prego. Da questa vicenda è stato assolutamente segnato perché lui nel momento in cui è stato accusato da Amanda è passato universalmente per il mostro di Perugia e a seguito di questa vicenda Perugia ha perso anche il lavoro ha avuto il locale sequestrato per mesi se ne è dovuto tornare in Polonia perché poi la moglie era polacca e ha potuto usufruire anche di un'assistenza familiare in Polonia quindi i pregiustizi dal punto di vista familiare e personale sono stati notevoli. Certamente sì. Un ruolo, una posizione in questa faccenda che secondo me ho la convinzione che lei ha una responsabilità della morte della povera Meredith. Che Amanda ha accusato Patrick di Alumumba non è vero. Grazie. Grazie.